Oggi è il tredicesimo giorno dell'emergenza nera, 13 febbraio delle 12, 8 del mattino, sentite il rumore delle macchine che procedono molto lentamente sul ghiaccio, la situazione a San Giorgio oggi è davvero critica, c'è un grave pericolo ghiaccio, è tutto completamente ghiacciato, vediamo la superficie stradale, il mando stradale è completamente ghiacciato, la situazione nelle strade è se si può più grave di quando c'era la lina, e adesso il ghiaccio rende le strade pericolosissime, si vede bellissimo come le strade siano una strada che piaccia, anche qui nell'incrocio è evidentissima, queste sono le macchine che vengono da via San Giorgio, quindi alla zona ancora più alta rispetto a San Giorgio, la sbozione del cielo, come dicono gli anziani, non è buona, anche per oggi è prevista un po' di abbiaccio e nulla, almeno appena avvenuto andate le macchine ci auguriamo che il ghiaccio il ghiaccio non porti l'interiori di sanci che al danno non si aggiunga la beffa il ghiaccio non porti il ghiaccio il ghiaccio il ghiaccio